Sta iniziando e il parco Marx di Sesto San Giovanni si popola di giovani e meno giovani. Gli anziani si riparano all'ombra dei pioppi, mentre i ragazzi sfidano il caldo e la noia giocando a calcio o a palacanestro. O almeno ci provano, dato che i campi sportivi all'interno del parco mostrano alcune carenze. A partire dalla mancanza di reti. Un grosso problema per chi vuole giocare a pallavolo, che i ragazzi hanno superato con una soluzione per così dire casalinga. Portano le reti a loro stesse e cominciano a giocare. Quindi si portano le reti da casa per giocare a pallavolo? Sì, sì. Cioè, loro stessi cominciano a giocare. Anche le condizioni del campo da basket non sono impeccabili. La retina di uno dei canestri sta per cadere e le crepe e la ghiaia che ricoprono il fondo in asfalto rischiano di far cadere i giocatori. E pensare che a poche decine di metri di distanza, in un'area privata, c'è un perfetto campo da street basket, riservato però soltanto ai ragazzi del condominio accanto. Nonostante questi problemi, il parco Marx offre svariati servizi ai suoi visitatori. Arei giochi per bambini, uno spazio riservato ai cani e un percorso intera battuta dedicato al jogging. Un'organizzazione che lascia abbastanza soddisfatti gli anziani, preoccupati però per la sicurezza del parco. Bisogna avere che sul parco ci sia qualcuno che visita. Chi è che visita il parco? Io sono qui anche tutto il giorno come lui. Non ho mai visto gente che viene a vedere se il parco è tutto a posto. Il comune spiega le carenze delle strutture sportive del parco con la mancanza di fondi. Intanto, in attesa della rete da pallavolo, i ragazzi hanno trovato un modo originale per utilizzare il campo.